salve a tutti sono qui oggi per presentarvi un sistemino semplice non impegnativo per vincere nei casino online tengo precisare comunque che nei casino online è sempre meglio software italiani garantiti AMS perché è in giro di casino truffaldini ce ne sono tanti sparsi in europa nel mondo per cui io vi consiglio appunto quelli marchiati AMS insomma sono un po più affidabile garantiti per i pagamenti per i prelievi e tutte queste cose qua ed ora veniamo a noi ho creato un account dove appunto ho creato anche diciamo un gioco in questo caso non reale che ti dà un budget di 2000 euro questo per farvi vedere come funziona il sistema e funziona sia con soldi reali che non reali cioè non cambia assolutamente niente qui abbiamo le nostre puntate da centesimi fino a euro e si consiglia giocare inizialmente a un tavolo di centesimi appunto perché c'è anche un tetto massimo che bisogna sempre tenere in considerazione per il nostro sistema ad ogni modo nel frattempo prima di fare la registrazione io ho fatto girare la roulette diverse volte in modo che ho fatto uscire ho riempito la schermata qua sotto in modo che mi dà una sequenza e da questa sequenza parte quello che è il sistema il sistema non è difficile anche perché tengo precisare che quando vi si collega in un sito dove c'è casino dove ci sono roulette slot machine via dicendo ecco che noi ci colleghiamo sia un server ma a un sistema automatico il sistema automatico ha dei diciamo delle pecke come tutti i software perché comunque hanno delle percentuali sia per la vincita sia per la perdita cioè loro hanno un sistema di far quadrare tra virgolette i conti però se riusciamo a raggirare questo sistema allora qualcosina si porta a casa perché come un software non può dire ok ho il 14 non posso farlo uscire 10 volte di fila come il sistema non può neanche dire il 14 è un numero che esiste nel sistema non lo faccio mai uscire non esiste questo vale per il 14 per il 2 per qualsiasi numero insomma adesso io avendo fatto uscire questa schermata ho fatto un conteggio che da conteggio fatto diciamo che il 32 e il 36 sono numeri buoni molto buoni giochiamo comunque con una percentuale del 90 per cento per cui è molto alta e una volta fatta fatta questa nostra puntata dobbiamo farla per 18 volte adesso parto col primo tiro ecco calcolate che siamo partiti da 2000 euro è attenzione secondo tiro terzo tiro terzo tiro quarto tiro quinto tiro sesto tiro settimo tiro ok ora abbiamo vinto 36 euro e automaticamente siamo saliti di 21 euro a forza di fare sempre la stessa portata da 1 euro a 1 euro infatti per questo che c'è anche questo conteggio di 18 tiri perché si ha la certezza che se entro il 18 di certesimo tiro esce il numero noi recuperiamo tutte le puntate che abbiamo fatto più la nostra vincita dunque fatto questo fatta la nostra vincita eliminiamo puliamo